Ciao mamma, sono stanco. Prima l'accensione, come abbiamo fatto prima, e la facciamo con il movimento giusto. Pronto? 3, 2, 1, vai. Buono. Mi sembra buono, no? Sì, sì. Torniamo indietro, rifacciamo. Stiamo provando solo a fare un loop in modo che vado avanti in motore continuo. 3, 2, adesso. Buono, bello. Dai, allora ci siamo? Stiamo girando? Sì, il motore gira. Max, va in posizione. Ok, vai su clima. Perfetto. Dai, cut, ragazzi. Blocchiamo, va. Bella però questa. Eh, sì. Ok, adesso provo ad accelerare. Tienila così costante. Paura, paura, paura. Accelera. Mantieni, 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 mantieni. Va bene. Ok, grazie. Ok. Ok.